Gentili telespettatori, buona giornata. Sia Grillo che Meloni che Salvini chiedono la stessa cosa. Tamponi gratuiti ai lavoratori non vaccinati. Dice serve una pacificazione. Il PD con Orlando dice no. Il fondatore del Movimento 5 Stelle dice è auspicabile che lo Stato paghi tamponi fino a dicembre 2021. Ma Orlando risponde così smentiremmo l'orientamento seguito finora dal governo. In effetti Grillo, Meloni e Salvini dovrebbero sapere che il governo ha tenuto alti apposta i prezzi dei tamponi per cercare di far vaccinare più persone possibile. Non li vuole fare gratuiti proprio per questo. Ha messo il Green Pass che è uno strumento politico che serve proprio per indurre le persone a vaccinarsi. Quindi fare i tamponi gratuiti è andare contro il senso di tutto ciò. Infatti Orlando risponde ma così smentiremmo l'orientamento seguito finora dal governo. Cioè andremmo a fare qualcosa di opposto rispetto a quello che è il desiderio del governo, vaccinare più persone possibili. Ma Beppe Grillo rilancia questa ipotesi. Tamponi gratuiti per lavoratori con l'obiettivo di favorire una pacificazione sul Green Pass. Ma Grillo al governo non gliene frega niente pacificare il Green Pass o no. Il Green Pass è uno strumento politico per obbligare a vaccinarsi. Se tu gli fai il tampone gratuito è un controsenso. Se il governo dovesse metterli gratis sta facendo qualcosa opposto a mettere il Green Pass. Piuttosto che mettere i tamponi gratuiti tanto vale che non metti il Green Pass. Perché il Green Pass serve solo per far vaccinare. Quindi capite che a quel punto non sarebbe più neanche il tampone. A quel punto se fai il tampone gratuito tanto vale che togli il Green Pass. Non lo so se Grillo, Salvini e Meloni questo non l'hanno messo a fuoco o fanno finta di non averlo capito. Io credo che facciano finta. Sì. Quasi certamente. Anzi ne sono convinto fanno finta di non averlo capito continuando a chiedere questa cosa. Tanto vale il tampone non farlo gratis ma togliere direttamente il Green Pass. si può pensare ad ulteriore forme di calmierazione per i tamponi dice Orlando. Ma anche tu Orlando ma cosa dici? Se il governo li sta tenendo alti apposta. Che cosa racconti la storiella? Magari abbassiamo un altro poi i prezzi. Ma cosa serve? Da 15 euro fai 14,80 euro? 14,99 euro come al supermercato? Insomma mi sembra tutta una discussione campata per aria. L'obiettivo del governo è tenere i tamponi costosi in modo che la gente non possa avere il Green Pass e allora si va a fare il vaccino. Questa è la realtà. Ma Orlando dice dobbiamo fare una calmierazione. Ma che ti calmieri. Ma renderli completamente gratuiti significa smentire l'orientamento che finora è stato seguito. Che vede nel Green Pass uno strumento di tutela del luogo di lavoro e anche di incentivazione al lavoro. Ma la tutela del luogo di lavoro direi che lascia il posto all'incendio. Visto come lo dicono bene? Io l'ho detto è per farvi fare il vaccino e lui lui Orlando è più fine di me. Dice è un'incentivazione alla vaccinazione. Incentivazione alla vaccinazione. Mi sembra ragionevole pensare a tutte le forme possibili di calmierazione. Ma che te calmieri. Ma far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato. No. Ma cosa c'entra? Ma cosa dice Orlando? Ma cosa dici? Se fai il tampone gratuito e stai dicendo che chi si è svaccinato ha sbagliato. Ma cosa dici? Fare il tampone gratuito significa dire tranquillo, lo Stato ti paga tutti i tamponi che vuoi così tu puoi non vaccinarti. Questo è il senso. Ma Orlando fa parte di quei politici sgamati, quelli che ci girano intorno, che sanno come girarci intorno. Ad oggi sono circa 41 milioni gli italiani con vaccinazione completa, che corrisponde all'80%. Ma anche quelli che non hanno vaccinazione completa, che hanno fatto magari solo una dose, si arriva all'85-86% di quelli che hanno più di 12 anni. Uno dei migliori dati in Europa che dovrebbe suggerire quindi che il popolo Novax in Italia è molto contenuto. Sul suo blog il Garante 5 Stelle Grillo aveva pubblicato un post intitolato sul Green Pass, qui tutte le regole che scattano dal 15 ottobre, serve pacificazione. Grillo osserva come su 19 milioni mancanti circa 6 hanno meno di 12 anni e altri 6 circa hanno tra i 12 e i 19. Quindi sono in prevalenza studenti delle scuole superiori e non lavoratori. Caro Beppe Grillo, forse non ti hanno detto che i lavoratori che non hanno il Green Pass sono tra i 4 e i 5 milioni. Quindi non giriamo anche i dati, perché insomma, cosa serve camuffare i dati? No, sono tutti ragazzi, ma non è vero Grillo, non è vero che sono tutti ragazzi. E poi continuo a dire 6 milioni hanno meno di 12 anni, 6 milioni hanno tra i 12 e i 19, quindi sono studenti non lavoratori. Si stima poi che ci siano circa 2 milioni e mezzo di over 60, prevalentemente concentrati sui 60-69 anni. Tra questi oltre la metà sono pensionati e meno di un milione lavoratori. Ma come meno di un milione lavoratori? Io ho letto articoli che parlano di 4 milioni di lavoratori, adesso mi dite che sono meno di un milione di lavoratori. Mettetevi d'accordo e pubblicate delle notizie reali, perché da meno di un milione a 4 milioni di lavoratori non è propriamente la stessa cosa. Ma poi lui continua tutto in un discorso, fa sottrazioni, addizioni, parla di disoccupati, inoccupati, due terzi, tre terzi, insomma fa tutto un giro di parole che non ho capito dove vuole arrivare. E poi alla fine dice che i lavoratori potrebbero essere 3-3 milioni e mezzo su 23 milioni, il 13%, 15% circa, mamma mia. Diciamo che in questo posto di grillo c'è una discreta confusione, una discreta confusione. Dice che per questi lavoratori servirebbe circa un miliardo di euro fino a dicembre 2021 per pagargli i tamponi. Tira lì fuori tu, grillo, il miliardo di euro. Se ce li hai, tira lì fuori, no? Per il garante 5 stelle questi lavoratori potrebbero essere individuati automaticamente attraverso uno scambio dati tra... non c'è bisogno di individuarli, se non hanno il Green Pass non possono entrare al lavoro, le aziende lo sanno perfettamente quanti e quali sono. Ecco, vabbè. Poi anche Giorgia Meloni dice quando abbiamo capito che la maggioranza arcobaleno che sostiene Draghi era intenzionata di introdurre l'obbligo a Green Pass, addirittura per andare a lavorare abbiamo chiesto subito che la spesa per fare i tamponi non ricadesse né sui lavoratori né sulle aziende. Anche altre forze politiche ora la pensano allo stesso modo. Sì, Giorgia Meloni, ma il tampone non è gratuito perché è fatto apposta a pagamento per indurre le persone a vaccinarsi. È uno strumento politico il Green Pass. Tutto lì, tutto lì, è inutile che ci giriamo intorno, gratuito, no? A pagamento, gratuito, no? A pagamento. Il governo l'ha scelto apposta a pagamento, non lo vuole dare gratuito perché ha quell'obiettivo lì. Non so se ci siamo arrivati, l'abbiamo capito alla fine. Grazie a tutti e arrivederci.